Spiegami un po', non sono pratico, mi spiego fin da piccolo, mi buttavo sempre sulle donne che non era giusta per me. Salto in sella alla lambretta, prima arrivo lì, quando sarò là non voglio avere fredda, chissà se sarà sola, sarà solo mia, se la mia pelle tocca sarà, 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 sarà. Sarà, sarà, sarà quel che sarà, sarà una cosa grande, oh yeah. Eh, sentite questo tema, questo tema che alla base di questa canzone arrivano i nostri, in realtà cos'è? Non è la carica, no? È uno squiglio militare, ma esattamente non so cosa sia, faremo una ricerca. Eh, succede che a un certo punto Paolo arriva con questo, questo temino. mi ha detto bello, questo è un funky moderato. Un funky moderato. Un funky pop, insomma. Ed è una delle canzoni che nel testo è bella, perché racconta una storia, finalmente. L'unico truccio è che a livello di metrica non ci stava la Vespa, nel senso che la canto io, per cui è un po', tra virgolette, se vogliamo, autobiografica, e ci sarebbe stato Salto in sella alla Vespa, Salto in sella alla mia Vespa, ma in realtà dice Salto in sella alla Lambretta, anche se amo anche le Lambrette. E tu? Io ho un sereno distacco da entrambe, perché ho sempre avuto Leprotto, Morini e robe così, a noleggio. E tra l'altro ricorda un po' la storia di Mogolli e Battisti quando dicono Salgo in auto e parto. Come si chiama quella canzone, Alberto? Neanche un minuto di non amore. Ah, di tuo. Molto bella. Insomma, quindi è un po' quell'atmosfera lì, di qualcosa che sta per succedere in un piccolo tempo, insomma. Ma da cosa è ispirata questa canzone? Spiegolo tu. Beh, vedete sulla copertina potete notare una serie di spermatozoi, perché il brano è ispirato a un noto film di Woody Allen. Tutto quello che avreste voluto capire sul sesso, ma non l'avete mai usato chiedere. Noi abbiamo preso questo esempio qua, perché parla di una serata di lui e di una lei che si incontrano a cena e lui la va a trovare con questa Lambretta. Poi c'è tutta la storia che dovreste ascoltare nella canzone. C'è una bella raccontata. Poi quando avrete visto il film, magari se ne riparo. Guardate il film. Ah, che cambio le pile. Bene, questa è la storia di Arrivani Nostri. Stupenda, eh? C'è tutta la storia di Arrivani Nostri. Quello ragazza. E poi ci vivo così, d'accordo alle tre. E vedi, vedi, vedi. Pieni a un funky pop. Grazie a tutti.